Buongiorno ragazzi, benvenuti a Pila! Siamo proprio in territorio di H, terreno bagnato, sta piovendo Io al boleto ovviamente figurati se siamo attrezzati, eccetto l'impermeabilino Jeansettino proprio leggerino, tranquilla Oggi ragazzi davano sole, 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 siamo un po' più sfigati Ieri invece davano pioggerellina e invece ieri abbiamo filmato ragazzi Tutto la recensione del bike park di Pila per Red Bull col sole Tra l'altro, vi ricordo che è già uscita quando state guardando questo video E vi lascio il link in descrizione per vedere l'episodio Che è una figata come al solito, ci siamo inventati Un altro episodio, chiamiamolo Sfida, con Francesco Colombo Che tra l'altro ribeccheremo oggi a girare, quindi dopo facciamo qualche pistina assieme Io mi auguro che lui non mi voglia far fare l'XS da Unil Cup Perché con questo terreno un po' così, meglio di no Scusatemi, non ha piovuto fino adesso Prima di scesa saliamo Siamo proprio nel punto del diluvio Sei sempre colpa tua Alboreto, sempre colpa tua No, guarda, si ferma anche la seggiovia Dobbiamo stare sotto la pioggia Promette bene Alboreto? Sono il primo giorno di bagnato nella vita, devo dire Mai girato sul bagnato Alboreto Oh, sentite qua che bel rumore Madonna, ma quanto ci si infanga oggi Qui c'è una serie di curvettine belle ripide Tutte chiuse E volevo fermarla Alboreto Ok, sono belle scivolose ragazzi Orco, giusto, sono scivolose Questo pezzo ragazzi è fighissimo perché veramente si surfa Guarda qua che roba Dagliene, dagliene Dai, falla scivolare Destra a sinistra, destra a sinistra Dai, dai, dai Mi puoi far vedere? Albì, ma scusami eh però Ho fatto la cacca addosso Tra l'altro, noi ovviamente Ci siamo anche provati i pantaloni di ricambio per tornare in hotel Quindi dopo, in mutande, in macchina Prego Come ti chiami? Signore e signori Sono lieto di annunciarvi La mia nuova serie per questo 2020 Dopo tanti tremini in bike park Passate a non capire un c***o Sono lieto di annunciarvi I nomi strani in bike park Nome? Isacco Eh? Isacco Hai detto nome? Isacco Isacco Com'è che ti chiami te? Com'è che ti chiami? Isaia Eh? Isaia Isaia? Ok, Isaia Come ti chiami? Non ho capito Erwe Erwe? Erwe Ah ok, Erwe Perfetto, Erwe Che poi io mi chiamo Torquato Quindi devo solo stare zitto Toppietti Ragazzi sono un po' lenti però Oh, se ieri andavi piano Oggi Guarda io sul bagnato Sarò andato Quattro volte Penso Ragazzi io spero che L'obiettivo non si stia sporcando troppo E qua saltini ragazzi Col bagnatino così Guarda lì come scrabba il fra Oh 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 Eh cavolo Con le linee lì io Non riesco ancora a farle Divertentissimo comunque girare così Bello cazzo Sì che non è questa? Bello bello così Allora Sponde chiare abbiamo detto eh Oh Ma con sta cosa Ma cosa Mi hai spiazzato Non mi avvisa eh Mi hai spiazzato di brutto lì eh È grande Mostrami queste curve In un modo o nell'altro Devo vedere proprio che fai Svrappavi è tutto qui Albi No il fango No il fango È morto Bello Albi questo Mi è piaciuta Beh Albi world first come al solito Come al solito i punti più improbabili per cadere di becca al borezo Cioè non sulle curve ma sul dritto Le magie ogni tanto arrivano Dai ti faccio scegliere Albi Tu mi scegli il gusto Albi Ciglia, cioccolato, banana, bevi con... Diamo questo perché c'è anche la caffina Cos'hai che hai preso quindi? Io prendo happy banana Siamo fermati per pranzo E oggi come vi ho fatto vedere poco fa Abbiamo come pranzo Proprio un pranzo Non è semplicemente una bevanda Questa bella bottiglietta Che è un vero e proprio pasto sostitutivo Col vantaggio che però ci metteremo pochissimo penso a berlo Però siccome è la prima volta che lo proviamo E tra l'altro questa azienda mi ha proprio contattato E non nascondiamo che è una collaborazione retribuita Però abbiamo detto vabbè In realtà è molto in linea con il nostro sport Abbiamo sempre poco tempo tra muoverci O comunque vogliamo girare Quindi vogliamo perdere troppo tempo Poi non vogliamo appesantirci troppo per girare Perché adesso Pizzoccherino E poi ero anche così Quindi abbiamo detto Facciamoci mandare questo prodotto e proviamolo E vediamo se a fine giornata ci sarà l'angorino O effettivamente se questo pasto sostitutivo Ci sazia per almeno fino a stasera diciamo Ah devo shakerare prima? Sì Buono? Buono? Ebbene avete presente gli yogurt da bere? Identico al gusto Quindi veramente buono il tuo? Molto simile Tipo un frappè e caffè Un po' leggero Tra l'altro ragazzi Questa azienda Mi ha creato Finalmente Finalmente il mio primissimo codice sconto per un prodotto Quindi Se utilizzate testa 10 Sul loro sito Che vi lascio anche in descrizione Potete comprare questo con 10% di sconto Vi faccio vedere una cosa Che volevo fare Che ho visto quando sono arrivato La scritta pila Dice all'alboreto E vorrei saltarla via Ci sarebbe come roba no? Quindi staccare qui Atterrarla Mi metto un sasso Così arrivo qui Pum Atterrola Ok È lungo eh Dai Ce l'ho Let's go Non è altissimo ma è lungo Albi Dai Un po' lungo Madonna Lo rifaccio Lo rifaccio Era bello Proverò a stupirli Hanno un suicide Nel città giusta adesso Let's go Ce l'abbiamo fatta Grazie mille Gentilissimo Lui ci ha aiutato a filmare Come ti chiami? Michelle Grazie Michelle Prego Grazie mille meteo Per averci fatto infangare Per bene Per punirci Per punirci Per la scorsa volta Di Paganella E adesso ragazzi Sole Senza neanche una nuvola Quello là Là in fondo È il monte bianco Non so Non so Ragazzi Adesso si è un po' asciugato Vediamo se Riusciamo a stare dietro Fra Adesso che è più asciutto È dura La vedo dura Sta andando Eccolo qui il pezzo Il pezzo figo ragazzi Stavo per morire Mi si stava per chiudere Che figo sempre questo pezzo Allora ragazzi Mente e shaper Del parco Mi piace tantissimo Quello che faccio Per me è una grandissima passione Più che un lavoro Spero che vi siate divertiti Assolutamente Assolutamente Accetto sempre dei consigli Quindi se c'è qualcosa da dire Bene Sempre bello Puoi vedere gli shaper All'opera Nei sentieri Perché vuol dire Che i tele sono mantenuti Può dire tutto quello che si vuole Ma sono rastrellati Tutti i sentieri Vengono tutti rastrellati Tutte le settimane Ok Proviamo I salti appena Shapeati Bisogna pedalare tutto E vai Sono riuscito a chiuderlo Finalmente Adesso che mi hai detto C'avevo il rapporto giusto Sono riuscito Adesso 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 Ragazzi Godetevi Questa discesa Con l'alboretto Perché è unica Va bene Staci dietro Albi Dai Ah beh Già persi Staci dietro Cheat Ah 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 C'è l'alboretto Poppa Rischia di andare dietro Oh Oh Mi rompa a perino Quando scendo Ah ah Me ne ero quasi dimenticato Si fermano Esiste fermarsi Che commento UCI 2020 Alboretto Edition Fame Non mi sento Non all'angorini Cioè non c'ho la sensazione Di pienezza Ma non ho nemmeno Esatto Più o meno Quello che non c'ho anch'io Mi metto per terzo Va bene Si si Esatto Buon appetito Buon appetito Se n'è andato Io ti saluto qua Perché tu sarei ancora Vero? Si salgo ancora Fantastico Grazie Sicuramente Piangeremo Piangeremo ancora Assieme No Rimparo un po' A girare in DH Seguendo qualcuno Che sa andare Vero mi insegnerei qualche Nuova trick Certo Magari al manzapizza Assolutamente Bella Ragazzi Potete potete testimoniare Che alboreto è tutto pomeriggio Che è lì seduto Vero? C'è anche la bici pulita Non l'ho toccata Due giorni che sono qua Io Si guarda Quando il casco di bianco Incollato Bene ragazzi Il nostro weekend Si conclude qua Con questo Passo sostitutivo Feedback Anche tuo Ci sta molto Perché Non c'è l'idea di pienezza Non ti senti mancare Le porte Esatto Quindi per tutte le energie Che vi dà Una bottiglietta del genere Io lo integrerei anche Con qualcosa di veramente leggero Ma Ci sarebbe magari Un'altra barretta Una roba del genere In questo momento Io non ho Il vuoto Allo stomaco Però senti la pancia sgonfia Esatto Però di energie Pomeriggio Nessun problema Ragazzi Ricordatevi Fondamentale Che in descrizione C'è anche Il video di Red Bull Che abbiamo fatto qua Pilla Con Fra Colombo Con Francesco Colombo Quindi Un video fighissimo Ok ricordatevi questo Ci vediamo al prossimo Bike Park Che sarà Come abbiamo detto anche nell'episodio Bike Park molto conosciuto a noi Parola d'ordine Parti là Esatto Va bene Iscrivetevi Ciao 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 Ciao